Begolino! 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 Eccolo qua! Begolino TV, benvenuti amici! Oggi giornata incredibile alla Radio Bruna perché c'è grande fermento! Giornata piena! Piena come me, piena come un uomo! Oggi stiamo registrando la canzone di Natale, quella che ascolterete presto con le voci degli speaker che non sanno cantare ovviamente. Tra i tanti speaker, chi ti capita a Begolino TV questa mattina? Signore e signori, a Begolino TV in esclusiva, Barbara Pinotti! Scusa che devo far partire la musica! Buonasera! Buongiorno! Cambiamoci di posto, tu vieni qua e vieni qua! Intanto vado con la musica! C'è la musica molto bene! 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 Allora, cara Barbara, noi ti abbiamo chiamata per fare il Begolino insieme! Benissimo! So che dopo mi sentirò subito meglio, giusto? Brava! Brava! Sempre barattissimo! Allora, dito in erezione, mi raccomando! Dito in erezione, così! Aiuto! Dito in erezione, così! Scusa, avvicini un attimo a Begolino che saluti intanto Begolino! Ciao! Ciao! Ciao bambini! Ciao! Ecco, dito in erezione, sì! Attenzione! Pronti! Tu dovrai andare verso il Begolino, facendo il movimento così e dicendo Begolino, Begolino! Dopo ci dici se stai bene oppure no, se stai meglio rispetto a prima! Scusa un attimo, Begolino va verso la scollatura della pinotti! Se no! Begolino maiale! Attenzione, ci siamo? Vai! Tira su il Begolino! Tira lo fu! Pronti? Via! Begolino, 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 Begolino! 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 L'intervista a caldo con Barbara Pinotti! Allora, come vi sentite? Ah no, scusa, come vi sentite adesso? Ma... Sai che! Mi sento braggurrata! Ragazzi! Vado a fare festa! Yeeah! Vedi che funziona Begolino TV Ritornerà domani mattina A domani Ciao